Allora il prossimo artista porta a questo palco questa sera il brano dal titolo Vento Caldo d'Africa Lui è Dario Schepisi Eccolo che arriva, Dario Schepisi, prego Che poi la cosa bella è che nel frattempo fra un'esibizione o l'altro noi impariamo a conoscere velocemente anche gli artisti Ad esempio Dario ci ha raccontato che ha fatto tante belle esperienze nel mondo della musica Ma soprattutto Giuseppe lui ha inventato un nuovo idioma che è il barisiliano Barisiliano Che non c'entra niente col brasiliano No, è una fusione fra il barese e il brasiliano Allora chi mi conosce in Puglia sa che faccio delle canzoni in dialetto barese coniugando con la mia passione musicale che è il Brasil Jazz Quindi ho appena preso un premio a Rio che mi daranno qui in Italia E niente, è una passione vecchia che mi porto dietro E col Brasile diciamo ho molte cose in comune Questo brano si chiama Vento Caldo d'Africa che è un samba Ed è un omaggio alla terra dell'Africa perché è stata la cool dell'umanità dove sono nati tutti i ritmi E quindi io dico che ogni musica, ogni genere musicale è accarezzato da un vento caldo d'Africa E allora portaci in Africa questa sera E allora portaci in Puglia